Il comune di Portenone ha presentato ai residenti di Borgomeduna gli elaborati del concorso di idee per la nuova piazza del quartiere. A illustrare i piani è stata l'assessore Cristina Mirante. Abbiamo deciso di fare un concorso di idee per la piazza di Borgomeduna perché in questo momento nel quartiere di Borgomeduna una piazza vera e propria non c'è. Si tratta di un luogo che adesso non è altro che una rotonda. Il quartiere ne ha sempre sentito la necessità, i vari strumenti, i vari piani regolatori, i piani di recupero l'hanno sempre prevista senza che non venisse mai poi realizzata. Perché il concorso di idee? Il concorso di idee è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Non si tratta di progetti ma si tratta di idee dalle quali partire, con cui confrontarci con la comunità in modo tale da sentire, capire quella che è la volontà dei cittadini e poi tradurla in un vero e proprio progetto. Presente all'incontro con i cittadini anche il sindaco Ciriani che rimarca l'impegno dell'amministrazione per i quartieri. Abbiamo fatto un concorso di idee con un partecipato professionisti importanti e ripeto insieme possiamo sfruttare questo treno, questa opportunità che passa anche per Borgomeduna. In realtà so già qual è l'osservazione che potranno fare altri cittadini. Si pensa a Borgomeduna e non ad altri quartieri. Noi stiamo operando per quadranti. Lo facciamo in base alle possibilità operative che ha il comune e anche in base ai finanziamenti. In realtà accanto ai lavori fatti in tanti quartieri ci sarà Borgomeduna ma quest'autunno partiranno anche i lavori di riqualificazione di Rorai che procederanno per lotti. E secondo me è un modo razionale di intervenire, cioè un po' alla volta nei vari quartieri dando risposte che sono condivise con chi lì vive.